Buona giornata a tutti, bentornati e benvenuti qui sul mio canale. Se ancora non l'aveste fatto io vi invito ad iscrivervi e a lasciare un mi piace se il video sarà di vostro gradimento. Nella notte italiana si sono giocate due partite del secondo turno degli US Open, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti i protagonisti. E' arrivata una vittoria per il Carrarino in 5 set contro Kecmanovic e invece è arrivata una sconfitta da parte di Matteo Berrettini contro Taylor Fritz con un secco 3-0. Ora mi dispiace molto per Berrettini in quanto credevo veramente che potesse fare una buona partita contro Fritz, giocarsela e accedere al terzo turno. Per onor del vero il mio pronostico ancora di qualche settimana fa era di un Taylor Fritz addirittura in semifinale in questo US Open. Poi però quando è stato sorteggiato dal lato di Berrettini ho pensato che Matteo potesse battere l'americano nonostante nei precedenti erano se non sbaglio 3-0 per lui e appunto Berrettini magari potesse spingersi fino lui alla semifinale o comunque fino ai quarti e invece purtroppo così non è stato. Troppo il divario tra i due non ha concesso praticamente nulla a Fritz implacabile al servizio ma anche nei turni di battuta di Berrettini è sempre riuscito ad entrare nello scambio, è sempre riuscito a mettere in difficoltà un Matteo che al servizio è stato veramente poco efficace e in tutta la partita non è sembrato lucido e brillante come ci aveva abituato diciamo così durante tutto quest'anno dove sembrava essere in ripresa. Fritz accede così al terzo turno dove se la vedrà contro l'argentino come Isana e poi l'ostacolo maggiore dovrebbe essere se non sbaglio ai quarti Zverev per Fritz quindi ecco questo per dire che potrebbe veramente configurarsi un Taylor-Fritz molto avanti nel torneo. Berrettini poi ha anche parlato dopo il match ha detto che ha questo problema una vena della gamba, un problema che non gli era mai uscito, era un po' preoccupato però ho detto che non ha influito troppo tanto nella partita ma forse un po' nell'allenamento insomma è un Berrettini che mi è parso non in forma ecco non in forma e fa tanta differenza per un giocatore come Berrettini se non sta bene purtroppo il rendimento cala drasticamente ho scritto nella copertina delusione forse per una questione mia personale perché mi aspettavo veramente qualcosina di più sul veloce qui a New York da parte di Berrettini che adesso deve rimboccarsi le maniche e c'è poco da fare bisogna cercare di diventare testa di serie per i prossimi tornei e entrare nelle prime 32 posizioni del ranking è fondamentale per un giocatore come Berrettini abbiamo visto già Wimbledon dove stava decisamente meglio come forma il fatto di aver trovato Sinner al secondo turno è stata veramente una ghigliottina per lui e stesso discorso vale qui insomma a questi US Open dove un fritz trovato così prematuramente si è rivelato letale per Matteo che comunque quest'anno c'è da dire che ha portato a casa un paio di titoli insomma è un Berrettini 2 o anzi 3 se non sbaglio è un Berrettini che ha dato qualche segnale di risveglio certo è che per ritornare a vedere il giocatore che centrava quarti semifinali slam e la finale di Wimbledon serve ancora qualcosina in più serve ancora del tempo discorso diverso invece per Lorenzo Musetti che ha centrato il terzo turno battendo in cinque set Mjomir Kecmanovic un Musetti veramente strepitoso stellare ormai ho finito gli aggettivi per questo giocatore che anch'io gli imputavo una poca tenuta durante le partite una poca costanza un talento sembrava sprecato bruciato e invece Musetti da qualche mese a questa parte è un giocatore totalmente diverso ma soprattutto a livello mentale perché Musetti l'abbiamo sempre detto è un giocatore veramente sopraffino dotato di classe, talento, un'ottima tecnica rovescio a una mano insomma Musetti è il classico giocatore che madre natura gli ha dato veramente delle doti importanti se dovessimo fare un paragone con il numero uno del mondo Sinner Musetti è molto più dotato di Sinner a livello qualitativo e tecnico però poi magari pecca in altri fondamentali e invece Musetti a livello mentale si è veramente tirato fuori alla grande e ha dato una risposta eccezionale anche oggi contro Kecmanovic una partita difficilissima perché comunque il serbo ha giocato veramente bene Kecmanovic non è che ha trovato un avversario materasso addirittura annullato dei match point nel quinto insomma si è dovuto grappare al suo miglior tennis nonostante non sia ancora il miglior Musetti e veramente bravo complimenti è un piacere vederlo giocare è un piacere vederlo battagliare io credo che anche il bronzo olimpico sia stata veramente una soddisfazione immensa per lui ma anche la semifinale a Wimbledon anche la finale al Queens se non sbaglio comunque tutta una serie di risultati eccezionali per Musetti fanno sì di avere ora un giocatore diverso un giocatore che ora avrà l'opportunità di giocare per accedere agli ottavi di finale contro Brandon Nakashima numero 50 del mondo giocatore abbordabilissimo già battuto in stagione da parte di Musetti chiaro non va sottovalutato ma questo Musetti può veramente fare bene poi ottavo di finale eventualmente con vista Sasha Zverev ma questo Musetti se l'andrebbe a giocare contro Zverev chiaro partirebbe un po' sfavorito ma Musetti è veramente un giocatore completamente diverso ripeto non tanto dal punto di vista della qualità di gioco perché lui i colpi li ha sempre avuti ma ora ha una costanza durante tutta la partita nei momenti chiave riesce a mantenere la lucidità e se anche a volte è sotto o deve recuperare recupera bene un miglior rendimento al tiebreak insomma un Musetti diverso un Musetti che adesso può veramente pensare e sognare in grande da qui a qualche anno dilimare qualche piccolo dettaglio e veramente poter anche pensare a una top 10 già intanto è in corsa nella race per provare a entrare alle finals e sarebbe un risultato assolutamente impensabile avere un Jannik Sinner o Musetti alle finals e ripeto questo giocatore può veramente superare tutti i limiti che tempo fa gli avevamo anche giustamente affibbiato ripeto è un giocatore veramente che ha più qualità di Sinner dal punto di vista proprio della mano però Jannik ha un pacchetto più completo un lavoro più costante un rendimento, una forza mentale da supereroe, da alieno e altre caratteristiche però se parliamo proprio di tecnica di quello che anche madre natura ti ha dato Musetti è più dotato ed è quindi era un peccato a volte pensare che questo giocatore sbattesse sempre contro gli stessi errori gli stessi problemi invece ha messo il turbo e adesso ci fa veramente divertire quando gioca Lorenzo Musetti veramente è un'occasione da non perdere perché sappiamo che può venire fuori veramente qualcosa di interessante anche a livello difensivo Musetti veramente è una piovra giocatore che non si arrende mai anche con Cacimanovic ha fatto di quei recuperi di quegli scambi veramente incredibili quindi che dire chapeau e ora domani contro Nakashima ripeto una grande occasione per cercare di centrare per la prima volta nella sua carriera un ottavo qui agli ES Open sarebbe un altro mattoncino un altro step di crescita ma credo che questo Musetti abbia tutte le carte in regola per battere l'americano io con questo vi saluto vi do appuntamento tra qualche ora per il ventunesimo episodio del TG Tennis Azzurro c'è tanto da dire vi dico solo che stasera in campo scende il numero uno del mondo Yannick Sin a più tardi buona giornata a tutti